E' certamente un incontro di amici, di cuori e di idee e di esperienze che mi auguro, ma tutti si agono, in particolare Betti, Michele e Rosa si agono possa essere qualcosa di importante anche per coloro che non sono stati compagni per tutta una vita di Roberta, che lo hanno conosciuto magari molto tardi addirittura qualcuno ne ha sentito parlare o ha letto il suo libro dopo che Roberto ci aveva lasciato quindi non vorremmo fare una semplice rimpatriata familistica ma vogliamo parlare di Roberto ricordarlo perché pensiamo che quanto egli ha detto, fatto e pensato sia ancora vivo e fertile per tutti noi. Poi dal momento che il tratto dominante di Roberto non era certo la prolissità né un'irresistibile logorrea di tutti noi, la sua laconicità che io ho sempre ritenuto qualcosa di molto saggio e di molto elaborato, non affasia ma riflessione intima, ci ispiri anche nell'essere noi sufficientemente sintetici per fare di questo incontro davvero uno scambio. Io, Gad, Betti, Michele, abbiamo pensato che a introdurlo fosse Goffredo Fofi per più ragioni. La prima è che, come mi ha detto la stessa Betti, Roberto adorava Goffredo, probabilmente in ragione della stessa laconicità di cui ho detto, Roberto mai l'aveva così esplicitamente fatto intendere a Goffredo e mai Goffredo così esplicitamente poteva averlo inteso. Ma questo rappresentare per Roberto Goffredo qualcosa di molto importante accomuna non tutti noi ma molti di noi. In più, Goffredo ha quel vantaggio inestimabile e invidiabile che l'età avanzata. I presenti sono coetanei o un po' più anziani di Roberto e poi ci sono quelli molto molto più giovani, coetanei di Michele o dell'età intermedia. ma Goffredo che ha accompagnato alcuni di noi, pensate, dal 1968 a oggi, in quella maniera tumultuosa e aggressiva ma sempre paziente e dolce che ha saputo offrire, davvero dal momento che alcuni di noi lo considerano il nostro vero fratello maggiore e il nostro solo maestro, è giusto che incontroduca questo incontro. Aggiungo e ho finito che mi sono arrivate messaggi di saluto particolarmente caloroso, di condivisione e purtroppo di impossibilità di essere presenti di Michele Brambilla e di Adriano Soffri. Goffredo. Va bene, non tenete conto di tutte le sciocchezze che dicono i deputati o senatori abitualmente, insomma, fa parte del loro mestiere. No, qui siamo per parlare di Roberto e anche un po' di questo libro che io, vi confesso, ho letto in questi ultimi tre giorni, in treno, tra Roma, Torino, Milano, insomma, andando avanti e indietro. Come il tuo solito. Come il mio solito. E sono rimasto... Sono rimasto molto sbalordito da questo libro perché è la cosa più interessante, più utile su questo argomento, sulla storia degli ebrei di sinistra in Italia e non solo in Italia, anche in Israele, anche in Europa, anche in America, che io conosca. È un libro estremamente semplice e desauriente. Racconta bene una storia importante, piena di tensioni, piena di entusiasmi, piena di contraddizioni, piena anche di delusioni, piena di lotte, piena di scontri, di difficoltà. Ecco, la prima cosa che viene a pensare è che il sottotitolo La solitudine degli ebrei di sinistra in Italia oggi riguarda, a meno a me, ma credo quasi tutti noi, insomma, la solitudine delle persone di sinistra in Italia e non solo in Italia. Nel senso che oggi la sinistra si porta malissimo. Le persone di sinistra sono poche. La sinistra storica è stata recuperata nel grande centro che macina tutto, destra, centro, sinistra, insomma, nel partito unico diviso in varie correnti, pronte anche a sbranarsi tra di loro, ma comunque sostanzialmente che accettano lo stato del mondo così com'è, che non reagiscono più a una, che non hanno più in testa un'ipotesi di un mondo diverso per il quale vale la pena di lottare. Piccole lotte ma senza in qualche modo la politica. In Italia dopo la morte dei movimenti, morte che è dovuta, se uno dovesse azzardare le percentuali, è dovuta al 70% alla forza sovrastante del nemico, forse l'80%, però in parte è anche dovuta ai nostri difetti, ai nostri limiti, alla nostra insicurezza. Di recente, non tanto di recente, ho visto un video, un DVD, c'è anche credo su internet, dove Mauro Rostagno, chiamato a Trento a celebrare il 68, 20 o 30 anni dopo, 40 anni dopo, non lo so, a un certo punto dice e poi abbiamo perso. Si ferma un minuto, guarda verso il pubblico e dice, per fortuna, per fortuna che abbiamo perso e credo che lì lui abbia detto una grande verità. Cioè, se per caso avessimo vinto il mondo sarebbe stato ancora più atroce di quello di adesso, perché ci saremmo scannati tra di noi, perché non eravamo all'altezza dei compiti che ci aspettavano. In qualche modo la generazione dei nostri padri, quelli che hanno fatto la resistenza, erano pronti, poi c'erano quelli che erano stati esuli, quelli che venivano da tradizioni liberali e socialiste, dal vecchio PC, eccetera, che erano pronti ad assumersi le responsabilità di ricostruire un paese, di rimettere in moto una società. Noi non eravamo assolutamente pronti, eravamo dei bambini viziati, piuttosto stupidi, molto aggressivi e molto coglioni. Ecco, questo credo va detto per prima cosa. Di tutto gli articoli, i saggi, i proclami, i manifesti che si sono fatti in quegli anni, io credo che la cosa migliore che resti siano ancora i discorsi di Alex Langer, credo che l'unico pensiero che è ancora valido per il presente, tra tutti quelli espressi dal 68, sia quello di Alex. Uno legge Alex e trova delle indicazioni sul che fare oggi. Ecco, leggere le cose di noi reduci è invece piuttosto imbarazzante, perché non siamo in grado di dare delle indicazioni. E quelli che le davano allora, per fortuna, come diceva Mauro, per fortuna che non hanno vinto, perché se no sarebbero state indicazioni traumatiche, un po' terribili. Venendo qui pensavo, perché questo libro parla dell'ebreo di sinistra e parla della sinistra, quindi parla anche di noi, anche dei non ebrei, e parla di storia italiana. Questo libro è un bellissimo libro di storia, che non riguarda solo la storia degli ebrei di sinistra, ma riguarda la storia della sinistra, la storia delle difficoltà, delle contraddizioni interne della sinistra, una storia che ha attraversato soprattutto il nostro dopoguerra e che ha avuto i punti culmine, come dice giustamente Roberto nel libro, nella guerra dei sei giorni e nell'attentato a Rabin, nella morte di Rabin, nei due momenti clou. La guerra dei sei giorni, qui è raccontato benissimo cosa successe in Italia, le reazioni del PC, del PSI, della borghesia italiana, eccetera. Ovviamente chi c'era ne ha un ricordo molto forte. Lo ricordo per esempio, io in modo imbarazzante, mi ricordo con Giorgio Bellocchio, ragionavamo sull'entusiasmo della destra per la vittoria degli israeliani. Entusiasmo di quelli che fino a un giorno prima avrebbero mandato gli israeliani al confino nel Lager, che all'improvviso la borghesia europea, la borghesia italiana, anche la destra italiana, quella più destra, si entusiasmarono per questa grande vittoria che era l'Occidente contro la retratezza, che era la tradizione ebraico cristiana contro i musulmani, che era i civili contro i selvaggi. Questa era un po' l'ottica in cui era stata vissuta, se andate a rivedere i titoli di giornali di allora, ma penso non solo il Corriere della Sera, ma i giornali anche il Tempo, giornali decisamente di destra, vedrete un entusiasmo collettivo sbalorditivo per questa vicenda, che era una vicenda che effettivamente ha cambiato le sorti, anche le sorti della sinistra italiana, non solo quelle di Israele e degli stati arabi. Anche perché ha dilacerato immediatamente su due fronti opposti molto rigidi e molto ideologici. La difesa oltranza di Israele e la difesa oltranza della Palestina. Rabin ha tentato di ricucire questa enorme difficoltà, questa enorme contraddizione e è stato ammazzato, è finito come è finito tanti altri che hanno cercato le vie dell'incontro, i ponti, i ponti di cui parlava Alex e i ponti di cui si parlava nella manifestazione di Milano l'altro ieri. Il cercare di riaprire il dialogo, di fare da ponti, di costruire confronti reali sui problemi reali e non sulle grandi ideologie, sul che fare, sui bambini, la salute, la scuola, il lavoro. Insomma, su tutto questo il confronto a quel punto si chiuse, si bloccò e è nata quella storia di difficoltà enormi che attraversa quella parte del mondo ancora oggi. Credo anche con delle responsabilità anche abbastanza precise, diciamo delle grandi potenze, nel senso che in questo libro non se ne parla, forse è l'unico limite del libro da questo punto di vista, il ruolo della Francia, la politica essere francese, il ruolo della Germania, il ruolo dell'Inghilterra, Francia e Inghilterra direi, soprattutto Francia e Inghilterra sono stati, come dire, i sostenitori di un Stato di Israele che servisse da cuscinetto, quindi anche facilmente sacrificabile, se era necessario, rispetto a quei paesi che bisognava tenere in qualche modo sottomessi perché volevano dire il petrolio sopra ogni altra cosa, volevano dire tante altre cose. Non lo so, io credo che perfino l'assassinio di Mattei sia stato, sia sicuramente dentro questa logica, le multinazionali, il petrolio, le aperture ai possessori del petrolio reali, cioè ai paesi arabi e il modo in cui queste cose non venivano tollerate dalle grandi potenze o dalle grandi potenze europee. Ecco, questo libro racconta minuziosamente questa storia dal punto di vista dei militanti, dei militanti di sinistra, di una sinistra estremamente contraddittoria, io forse la parte più contraddittoria di questa sinistra era proprio il PC. Nel Partito Comunista Italiano si sono subito avute due anime, l'anima filo palestinese con motivazioni iperideologiche ideologiche oppure con motivazioni, come dire, anche postcolonialiste e anche poststaliniste, no? Veterostaliniste, insomma. E poi c'è stata un'anima invece molto più, come dire, aperta alla discussione e al dialogo. Per esempio su questo il PSI non era così infame come è diventato dopo. Nel PSI c'è stato un dibattito certamente molto più aperto e più libero di quanto non ci fosse nel Partito Comunista. Dove però il fronteggiamento delle posizioni fu veramente, credo, molto drammatico e ci andarono di mezzo anche alcuni ebrei del PC che erano quelli che avevano fatto la resistenza, che avevano fatto l'antifascismo, che hanno fatto la ricostruzione e che si trovarono in qualche modo in una difficoltà reale rispetto a un partito che sostanzialmente seguiva i dettami saliniani, seguiva ancora la linea russa, sceglieva ancora la parte sovietica, la guerra fredda non era del tutto finita e continuamente rimbalzata da una situazione all'altra. Quindi queste difficoltà e questa storia, questo libro racconta benissimo. Io per la prima volta ho avuto chiare i termini posizioni, anche restando a volte sbalordito dalle citazioni che ci sono, perché sono tutte in qualche modo prevedibili, però alcune volte sono citazioni che ti indignano e alcune volte invece citazioni che ti esaltano, Terracini. Terracini, come dice delle cose straordinarie, dall'interno del PC e contro la linea dominante del PC. Oppure, che ne so, Fortini nei cani del Sinai, che è un libro contraddittorio e faticoso, perché è un ebreo che si autocritica e critica in qualche modo anche la sua origine ebraica, ma lo fa a un livello di coscienza internazionalista molto deciso, molto forte. Leggendo questo libro a me veniva in mente uno degli ultimi racconti di Amos Oz, un grandissimo scrittore, prima si parlava con degli amici di questo film che uscirà tratto dalla sua autobiografia, dovrebbe uscire questi giorni, e Amos Oz in uno degli ultimi racconti racconta la morte di un vecchio sionista, socialista, che nel kibbutz dove viveva, ormai isolato, ormai lasciato da parte dalla storia, messo fuori dalla storia, continuava ostinatamente a insegnare l'esperanto, a chi voleva imparare l'esperanto. L'esperanto è stata nel dopoguerra una delle grandi illusioni di una o più generazioni. L'esperanto voleva dire una lingua universale fatta di pezzi di tutte le lingue che ci rendesse tutti i cittadini del mondo, una lingua comune, un'utopia antichissima, che poi la globalizzazione rende parodistica in qualche modo oggi per i modi come la realizza. Ma insomma ci si credeva veramente, ci sono intere generazioni che sono cresciute e hanno lottato e molti sono morti su quest'ideale di nostra pace e del mondo intero, come diceva la canzone, oppure di la pace tra gli oppressi, la guerra tra gli oppressori, come dice un'altra, delle scelte di campo di una solidarietà mondiale tra gli oppressi, tra gli umili, tra i poveri, tra gli sfruttati, tra i minori, tra i malati, insomma, che tra gli operai, tra i lavoratori, la classe lavoratrice, una solidarietà internazionale contro i padroni, detto in termini volgari come li si diceva allora. Questa storia del rapporto israele-palestina, questa storia dello Stato di Israele rientra in questa vicenda e rientra anche nella grande sconfitta di tutta la sinistra mondiale. Insomma, ancora nel dopoguerra si pensava possibile che con la ricostruzione, con le lotte, eccetera, ci si potesse accostare al socialismo, ci si potesse accostare a una solidarietà internazionale reale, ci potesse parlare l'esperanto, magari metaforicamente, però magari l'inglese è diventato lingua di tutti, in quanto la più semplice, la più immediata e non in quanto l'ingua del padrone, l'ingua dell'impero capitalistico. Ecco, queste speranze sono state vanificate dalla storia in quegli anni e sono state vanificate, diciamolo pure, dalle classi dirigenti europee, americane, in primo luogo, insomma, che così, come dire, secondo me non volevano un Israele troppo forte, volevano un Israele condizionato e tantomeno volevano degli stati arabi, autonomi e borghesi. Tanti anni fa a me capitò di conoscere uno storico esule a Parigi, a Noir Abdelmalek, uno storico egiziano, che scrive sul libro che si chiamava Esercito e Società in Egitto e lo tradusse io dal francese per Einaudi e a casa sua, parlando con, perché mi aiutava, le cose che non capivo, eccetera, eccetera, insomma, lui mi fece capire, mi spiegò come stava nascendo nel mondo arabo una borghesia piuttosto di sinistra, piuttosto riformista, piuttosto intelligente, che fu soffocata da questo peso dell'Europa, da questo peso dell'Europa che non voleva che l'Egitto diventasse una borghesia moderna, gli faceva concorrenza e gli toglieva il petrolio in qualche modo, quindi, e questa cosa credo che fosse tremendamente vera, che questa storia di quel pezzo di pianeta in realtà fosse anche una storia che ha avuto sempre dei nemici nei grandi poteri mondiali, per cui tutto il discorso poi razzista, pararazzista, di rifiuti, di opposizioni, di contrasti, di pregiudizi veniva un po' di conseguenza, faceva comodo questo discorso a chi comandava, a chi aveva il potere, ecco, chi aveva il potere economico mondiale. Questa storia in qualche modo nel libro c'è. L'altra cosa che vorrei dire è quella di parlare un po' di Roberto. Tutti noi credo abbiamo voluto bene a Roberto, ma Roberto era un personaggio abbastanza singolare, perché non si presentava come l'intellettuale borghese o il giovane intellettuale borghese che vuole sbalordirti con le sue idee, insomma. Si presentava in un modo appunto laconico, ma anche molto semplice, molto immediato. Il problema era che quando lo vedevi al lavoro, io ho avuto la fortuna rispetto a molti di voi di vederlo a Palermo, ecco, di vedere Roberto quando praticamente era uno dei, non so se era il principale dirigente di lotta continua a Palermo, ma uno, come dire, mandato dal partito, nella terra degli infedeli in qualche modo, in posto dove il partito non aveva grandi forze. E il modo, come dire, questo tratto così automaticamente, immediatamente, signorile, nello stesso tempo disponibile, di disponibilità assoluta. Vedevi una persona con una sicurezza interiore molto forte che gli permetteva di dialogare col piccolo mafioso, col delinquente di quartiere, con il politico cialtrone, con gli iper accademici insopportabili del manifesto, con i professorini di avanguardia operaia, con una sua dirittura, con una sua misura, che era una cosa che io, che sono sempre stato un po' isterico, o sì o no, le vie di mezzo, i dialoghi, insomma, sono cose molto faticose da gestire. Ecco, era, da questo punto di vista, una cosa abbastanza unica, una cosa ammirevole. Credo che anche Roberto abbia sofferto della solitudine della sinistra, che abbia sentito pesantemente e che in qualche modo il suo interesse per la storia esemplare della sinistra ebraica derivasse anche da questo. Insomma, era la nostra storia che gli stava a cuore, era il nostro fallimento, era le nostre difficoltà che gli premevano. E lui su questo ha costruito questa ultima fase della sua vita, che io ho seguito molto di meno, Betti, la famiglia, il giornalismo, il lavoro, eccetera, con una, anche qui, con, forse ecco, l'altra grazia che Roberto aveva era l'ironia. C'era sempre un certo, no? Non prendersi troppo sul serio, che però voleva anche dire non prendere troppo sul serio le persone che aveva intorno, cioè saperne vedere i limiti, saperne capire i pregi e anche in qualche modo tollerarne i difetti con simpatia, però senza chiudere gli occhi, senza ignorare quelli che erano i loro difetti, cioè i nostri difetti, diciamo la verità. Insomma, poi si parla di noi, insomma, del dirlo dei suoi amici, delle persone con cui ha continuato a lavorare. Io credo che, ecco, un'ultima cosa che vorrei dire, è per me che, non so, uno dei primi libri che ho recensito era una storia degli ebrei in Italia, di una gemma, qualche cosa, non mi ricordo, gemma Volli, ecco, per il ponte, per il ponte, la madre di Ugo Volli. Va bene, non è colpa della madre. Va bene, no, questo mi giunge nuovo, non ci ho mai pensato, però, insomma, il libro era molto bello, era un piccolo libro molto didascalico, per me fu abbastanza sconvolgente, perché, e poi perché capì che, come dire, che, insomma, fino al 67 trafficavamo nella sinistra con tanti ebrei che non sapevamo che erano ebrei. Cesare Cases, ebreo doc, rimase sbalordito quando Pansieri gli disse che lui era ebreo, perché ignorava che Pansieri fosse ebreo, capito? Perché non era, non è che uno doveva avere l'etichetta, doveva dichiararlo, eccetera, eccetera, e la sinistra era piena di personaggi di ebrei straordinari, solo quelli che hanno influito sulle nostre leve, Foa, Cases, Fortini, Pansieri, Carlo Levi, per me importantissimo, forse, no, ma anche io parlo di quelli che avevamo intorno e che abbiamo anche conosciuto, Terracini, insomma, Carlo Levi, ovviamente Primo Levi, Giorgina Aria Levi, mia grandissima amica di cui nessuno si ricorda più, ma un personaggio straordinario della sinistra torinese, no? Lei è il marito che era medico, sempre un po' nell'ombra, anche lui un gran personaggio. Insomma, gli avevamo in mezzo, ci stavamo in mezzo e erano, non tutta la sinistra, per carità, ma erano dei punti di riferimento all'interno della sinistra fondamentali. C'è un libro recente che ha suscitato molto casino all'interno degli intellettuali ebrei italiani, miei amici, che è quello di Enzo Traverso, no? Che racconta come gli intellettuali ebrei, da forza centrale nella storia della sinistra tra 800 e 900, in tempi recenti, dopo 67, dopo la contrapposizione forte tra gli ebrei e gli arabi, lentamente sono diventati non più di sinistra, ci sono un po' anacquati o hanno addirittura alcuni di loro fatto il salto e sono passati dall'altra parte. Io credo che tenere vive queste discussioni vuol dire tenere viva quella tradizione degli ebrei sinistra, da Marx in poi, come dice Luigi, ma anche tenere viva la sinistra, tenere viva di noi, capito? Perché è una storia che riguarda noi, non riguarda solo voi, gli ebrei. Grazie. Grazie, grazie davvero. Il bellissimo libro di cui diceva Goffredo è qui a disposizione di tutti, cioè chi non l'ha ancora avuto nei mesi passati o chi lo volesse prendere per regalarlo a qualcuno che non lo ha è a disposizione, grazie anche alla consueta generosità di Giorgio Albonetti. Io mi permetto di cambiare il programma previsto e quindi chiederei a Carlo Verdelli di venire qui da noi a parlare perché il ritratto che ha fatto Goffredo di Roberto degnamente va completato con quella che poi era una tra le passioni dominanti di Roberto stesso, una delle passioni dominanti. No, era l'ermeneutica la seconda passione di Roberto, è di questo l'intraterro. Intendeva, alludeva a questo. Sì, è di questo. Di cui parlerà adesso il professore di Stenetica di Carlo Verdelli. Esatto. Sì, con Roberto. Roberto era un giornalista, io lo conosco come giornalista molto curioso, ha più strati, è un grande lavoratore che ha una grande qualità e uno che non finiva mai di avere voglia di imparare. È questo, è un'altra caratteristica che lo accompagna anche negli anni della malattia, lo spinge ad accettare per esempio l'incarico, passare dalla direzione di Traveler a quella a lavorare alla Fitton Post che è un salto anche temporale perché la Fitton Post è più che un quotidiano, è un'agenzia, i siti, il direttore di Traveler invece li consentiva una vita più tranquilla anche essendo già in condizioni di salute non fortissime. Negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sono nei condizioni di salute peggiorano però tutti i colleghi che hanno avuto a che fare con lui con la Fitton Post sapevano benissimo che anche se non stava bene, anzi non stava proprio bene, l'appuntamento con la redazione che stava a Roma era un appuntamento imperdibile perché essendo un uomo con un altro senso del dovere. Con molte curiosità si era messo a lavorare con questa redazione giovane della quale ha lasciato un grande ricordo e questa voglia continua di lavorare va di pari passo con una passione. Anche questa ha ragione Fofi. Roberto non era laconico, era laconico anche nella passione interista che poi il tema su quale mi chiedo di dire due parole gli amici non ridete, per molti di noi è un dramma che dura una vita insomma e anche per Roberto ecco e uno dei più bei, insomma la passione interista per chiunque abbia una minima dimestichezza col calcio lo sa, là c'è mio figlio piccolo se non è ancora dato via perché per la sua fa no, che vacilla nella sua fede interista perché poi avendo nove anni Ancora non ha visto. No, 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 subisce dei rovesci emotivi tali per cui incomincia a pensare che forse è meglio prendere un'altra squadra, mamma tira la Sampdoria e quindi dice ma io tengo la Sampdoria, lo capisco. Roberto invece è di fede incrollabile come tutti i dannati dall'inizio, no? Anche il dottor Gad appartiene alla stessa razza e insieme abbiamo condiviso molti momenti di chiacchiere, di passioni. Michele Brambilla che ricordava prima Luigi mi ha telefonato dicendo che un amico di Roberto l'aveva conosciuto quando lavoravano insieme a Sette e poi al Corriere, adesso il direttore della Gazzetta di Parma che è il più antico giornale italiano ed era a dirige la Gazzetta di Parma e non poteva venire fino qua. Però dice ti prego di dire se per caso dovessi parlare, gli ho detto guarda non parlerò, lo dirò a Betty, a Michele, lo dico ad alta voce, ti prego di dire che di Roberto mi spiace molto non venire perché Michele fa il giornalista, è famoso per un libro, per alcuni libri tra cui Leschium in redazione, non è un giornalista di sinistra, è un giornalista molto vicino a come una liberazione eccetera eccetera e Roberto non ha esattamente come ha ricordato Fofi quella formazione, ne ne avrà nello sviluppo. Però quando si conoscono lui e Michele, Michele dice mi regalò la sua amicizia con una spontaneità, una gratuità che io mi porto ancora dentro, tanto è vero che poi venendo a due percorsi diversissimi, avendo fatto poi strade diversissime, restano molti amici, si continuano a sentire parlando un pochino di giornali ma soprattutto essendo anche Michele Brambilla molto interista, soprattutto di Inter. L'Inter è un argomento che dà discutere molto di più della politica, infinitamente di più della politica, forse anche di più della religione, nel senso che è come assistere a una tragedia che si riperpetua come il fegato di Prometeo che si crea, si scompare, degli infelici, degli infelici che però di tanto in tanto hanno momenti imprevisti. Uno dell'ultimo grande regale, uno degli ultimi grandi regali che aveva fatto Roberto risale proprio a una avventura con l'Inter. Dunque con Gad, figli eccetera, compreso il piccolo Flavio che diventa protagonista o coprotagonista di questa serata, organizziamo una trasferta a vedere Celtic Inter a Glasgow, anzi l'organizza Gad. Era inverno quindi faceva Fredino, giusto? Perché eravamo ai 64esimi di Copa UEFA, quindi andiamo fino a Glasgow e faceva molto freddo, si è primordi, si è da molti anni che non superiamo, non arriviamo a giocare in primavera dove si va. E Roberto fa... E Roberto è iscritto, si iscrive anche lui a questa trasferta, si iscrive a questa trasferta e però all'ultimo momento le condizioni di salute non gli permettono, non se la sente, non sta tanto bene di andare. E quindi andiamo noi, andiamo noi, ci vediamo la partita, la partita rocambolesca finisce, la partita da Inter finisce 3 a 3 e torniamo indietro. Con Roberto eravamo stati però in condizioni diverse a vedere la finale di Madrid. Dilla quella data, 22 maggio. 22 maggio, 22 maggio, la finale di Madrid dove l'Inter fa il triplete, cosa che avendo qua un amico giuvettino gli auguriamo di cuore tra poco di celebrare anche loro. Esatto, però sono un augurio, non fa mai male. Sincero. Sincero. Dunque lì andiamo a Glasgow e Roberto non riesce a venire, però come certamente voi tutti sapete, perché vedono i vostri volti, una passione sportiva latente e in alcuni casi manifesta, c'è una partita di ritorno. Una partita di ritorno organizziamo. Fa ancora molto freddo, perché, vi ripeto, siamo ai primi nari, novembre, dicembre, non so quando fosse, e con Roberto diciamo andiamo a vedere quella partita. Continua a non stare bene Roberto, nel senso che non si è rimesso, ha avuto un momento un po' meglio, però decide di venire a quella partita e andiamo a quella partita a San Siro. Io non dimenticherò mai la fatica di Roberto, anche perché, con come sa chiunque è stato qualche volta allo stadio, non è che tu arrivi con l'elicottero e scendi nel campo, bisogna parcheggiare lontano, a meno che tu non abbia delle condizioni particolari a favore, che arrivi sotto. Non le avevamo, quindi parcheggiamo lontano ed eravamo un po' in ritardo. Eravamo un po' in ritardo e quindi io affretto il passo, perché poi io sono nevroti, avevo paura che arrivassimo tardi. Quindi si creano due gruppi, Roberto con alcuni dei miei figli e io con altri davanti. E a un certo punto lo chiamo e dice dove siete? Dove siete? Io sono all'ingresso 7. E lui dice, sento Roberto che dice, stiamo arrivando con un fiatone, una fatica notevole. Raggiungiamo il posto a sedere, vediamo la partita, la partita finisce in modo tale che passiamo il turno, quindi lo sforzo valeva la pena. e ritorniamo verso casa e mi rendo conto anche durante tutta la partita, nell'avvicinamento allo stadio, nel ritorno a casa di quanto costava a Roberto essere lì. E lì si uniscono due passioni, lo stesso discorso che faceva Michele Brambilla. Lui era venuto certamente perché vedeva una partita dall'Inter e dal vivo, era una bella cosa, ma era venuto per amicizia. Ci tenevamo più noi, noi che non era venuto di lui ed era un suo modo per dirci, io sono sempre vostro amico e faccio questo sacrificio per voi. Io ero molto contento di dirlo che non fosse venuto. Esatto. E infatti poi lui non me lo dice, ci sentivamo spesso in quel periodo, però poi Bettini dirà che il giorno dopo era stato molto male, Roberto, per forza perché aveva risentito dello sforzo. Però ecco queste due cose qua, l'amicizia e l'Inter in qualche modo vanno a completare come due pezzetti di un puzzle il quadro che ha cominciato a tratteggiare Goffredo. Vi ringrazio. Grazie Carlo. Lo ha già anticipato Goffredo, il libro di Roberto ha come data di scrimine come spartiacque la guerra dei sei giorni di cui proprio in questo periodo cade il mezzo secolo. Di questo libro ora faremo parlare, chiederemo loro di parlare due persone che molto bene conoscono sia il testo di Roberto sia le vicende relative, però è anche utile forse ricordare che esattamente tra una settimana, lunedì 29 su Rai 3 alle 23, andrà in onda un programma realizzato da Gad che ha proprio questo titolo, sei giorni una guerra infinita e che credo possa essere un modo utile e intelligente di integrare quanto oggi e quanto a partire dal libro di Roberto si può cominciare a finalmente ripensare accogliendo l'invito di Goffredo a considerare questa come una nostra storia e una storia che riguarda tutti noi. Chiedo a David Bidussa di venire qui ricordando che David ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura di questo libro perché è stato colui che ha accompagnato il lavoro di ricerca di Roberto. Io spero di essere abbastanza chiaro perché sono un po' emozionato. Allora io ho parlato di questo libro quando ancora questo libro non era un libro era un'idea. Una sera a cena a casa nostra con molta... mi sono divertito a tirar giù dei libri mentre Roberto diceva delle cose e improvvisamente mi sono reso conto di una cosa, che tutta questa vicenda di cui lui era estremamente appassionato in realtà era un altro modo di tentare di scrivere un'autobiografia di una generazione. Allora in che cosa consiste questa autobiografia? In un dato molto semplice secondo me. Provo a dirlo con due parole, come dire, da timbro. Quando tu cresci in un mondo e ti accorgi che quel mondo per te, nonostante che tu sia molto legato a quel mondo, faccia parte della tua vita, cioè quindi non hai nessuna intenzione né di sconfessarlo né di tirarti fuori da quel mondo. Però ti accorgi che quel mondo non esaurisce la tua persona, è solamente un pezzo. Tu in un qualche modo timbri quello che si direbbe con un passaporto, quando noi andiamo in qualsiasi aeroporto e arriviamo in un paese, tu hai una sorta di visto di uscita. Cioè maturi il fatto che quel mondo a cui appartieni, quell'esperienza, quel vissuto, sono una parte della tua persona, non hai nessuna intenzione di negarle, però quella condizione non esaurisce la tua persona. Una volta che hai superato quella soglia e che metti in discussione quella complessità, si pone un altro tipo di problema. E si pone il problema di capire quanto le persone che sono fuori da quel mondo iniziale sono disposte a prendersi in carica di te. Cioè qual è il prezzo che devi pagare per quel biglietto di ingresso da un'altra parte. E la condizione, secondo me, degli ultimi cento anni è che chi ha provato a uscire da quella condizione è rimasto sempre in una sorta di terra di nessuno. Dove dunque c'è la capacità sarcastica di prendersi in giro e anche di scavare molto dell'identità precedente per certi aspetti e allo stesso tempo l'impossibilità di accedere a qualche cos'altro. Allora l'intelligenza sta nel sapere che c'è questa condizione in mezzo, che sai che devi pagare un prezzo per essere caustico. Allora, in quella causticità puoi permettere di essere molto generoso oppure risentito. Allora, secondo me Roberto non era un risentito. Allora, questa è la capacità, come dire, di non sentirsi un escluso. Allora, io penso che il profilo di questo libro, dalla prima volta in cui ne abbiamo parlato a casa, fosse essenzialmente questo. Fosse una grande metafora di una condizione che credo che gli eretici di sinistra a partire dagli anni settanta, uso questo termine perché era molto facile essere eretici di sinistra negli anni trenta, quaranta e cinquanta. Se ti facevi l'eretico negli anni trenta, quaranta e cinquanta, avevi altri casi della sinistra dove potevi andare. La storia di Ignazio Selona è quella. Tu esci da un mondo, entri in un altro mondo e c'è sempre qualcuno che ti accoglie. Quello che accade dopo gli anni settanta è che tu esci da un mondo e nessuno ti vuole più accogliere. Questo è il punto. Perché? Perché per quanto noi ce lo diciamo, il vero problema, secondo me, di questa storia, che è anche un pezzo della sconfitta del mondo ebraico di sinistra, o della solitudine degli ebrei di sinistra, ma che semplicemente è un aspetto, è che quella che è stata sconfitta nel novecento è la laicità della cultura. Non è stata né sconfitta la destra né sconfitta la sinistra. Ha vinto semplicemente la teologia dell'appartenenza. E il problema è, se ora lo dico in maniera molto secca, cioè è la capacità di essere non eretici, ma saper essere contraddittori. Non vergognarsi della contraddizione. Sapere che tu puoi pensare per pezzi. E tutti noi siamo solamente dei pezzi non omogenei. Allora, la cosa più affascinante, secondo me, di questo testo, ma anche della storia della scrittura, per quello che io potevo capire in quel momento, di Roberto era quello di fare i conti con un pezzo di storia, che era anche un pezzo, come dire, di vissuto per certi aspetti, indipendentemente da andare a pescare l'argomento. Voleva dire, tu devi descrivere un tragitto. Questo tragitto era un tragitto emozionale, era un tragitto, se volete, sentimentale. Era anche il fatto, come dire, di sapere di essere ibridi. Allora, poi chiudo. Noi, negli ultimi vent'anni, in nome, come dire, della bellezza o del fascino, della eterogeneità, abbiamo pensato che l'ibridismo sia un cumulo messo insieme di cose. Mentre invece l'ibridismo è semplicemente la capacità di governare pezzi di differenze che devono stare distinti. Perché se tu le metti insieme, tu quello che crei è un altro codice. Coerente. Mentre invece il problema è saper vivere l'incoerenza. Grazie, ho finito. Grazie. Aspetta, per chi non conosce, e spero che siano pochi, David Bidussa, questo intervento di David Bidussa, oltre a dirci tante cose importanti di Roberto, ci ha detto cose altrettanto importanti di Davide, il che a me fa piacere averle sentite. Per caso c'è Betti che vuole raggiungerci? Dunque, io volevo dire una cosa che è molto più, come dire, personale che forse politica. ringrazio molto gli oratori che mi hanno preceduto. Che è proprio una riflessione sull'asinello di Elisha. E sulla complessità, io in certo momento così, mi sono detta anche che forse questo era un regalo d'amore, no? Perché è la storia di un matrimonio misto dove, scusate volevo assolutamente non fare un figlio troppo ebreo per Roberto, ma che fosse figlio di tutte e due. E ho avuto in lui una specie di grande e severo maestro che mi costringeva a tornare a casa. Cioè, ecco, io penso che questo è stato forse anche il motivo per cui io volevo restituire questa cosa stasera. Cioè, il fatto che buona parte del lavoro che Roberto ha fatto in questa tesi l'ha fatto al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea dove io lavoro, CEDEC, e che Roberto ha costretto me ad andare a lavorare al CEDEC perché Michele usciva dal liceo, dalla scuola ebraica. Michele ha fatto un piccolo pezzo alla scuola ebraica e poi ha fatto liceo fuori e lui era molto preoccupato che io mi preoccupassi del fatto che Michele non avrebbe avuto una sufficiente educazione ebraica. Ed era veramente liscia nel senso che lui portava me a ritornare a casa, cioè a dirmi, ok, tu non devi rinnegare la tua identità, possiamo tenere tutto insieme. Ed è forse la cosa che è l'eredità maggiore e la forza maggiore che oggi ho. Quanto è stato potente il suo messaggio di dire tu devi restare ebrea, Michele sarà un ebreo, io spesso mi dico l'assimilazione, cioè tutti i temi identitari che a me hanno un po' caratterizzato la mia vita, no? Di essere arrivata da un paese arabo e poi arrivare in Italia, eccetera. E lui è stato una specie di luce che indicava la strada, no? Quando si dice della sua certezza, della sua stabilità, beh, lui molto più di me mi ha costretto a essere ebrea. Cioè, mi diceva facciamo lo shabbat, mi diceva ok, si può stare, no? Quando io facevo delle scelte di laicitudine, di non essere troppo ebrea perché non volevo sottrarre un figlio a mio marito, volevo che lui fosse entrambe le cose e ero molto insicura e invece lui mi ha restituito sempre il fatto che, ecco, è stato lui, per me, io ero, forse era Bmeyer, lui era Elisha che mi ha riportato a casa e questo per me è molto importante condividerlo con voi qua stasera. Grazie. Per chi non lo sapesse, tra noi c'è anche Nonna Rosa che per noi tutti è una figura davvero davvero importante sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Quello emotivo e affettivo è, pensate un po', persino sotto quello politico. Ciao, Nonna Rosa. Giorgio Gommel, voglio avere il piacere di presentarvelo io. Prima Goffredo citava Alex Langer, molto giustamente, e io pensavo all'elogio del tradimento che è tra i pensieri di Alex e pensavo a come la condizione tipica dell'ebreo di sinistra sia quella, ad alcuni dei presenti assai familiari, dell'essere accusato di essere un traditore e dalla sinistra e dal mondo ebraico. Quando Goffredo descriveva gli schieramenti e i sentimenti di 50 anni fa intorno alla guerra dei sei giorni, io pensavo che fosse lui, non se l'immagina, ci siamo conosciuti soltanto tre o quattro anni dopo, io e lui, ma io da ragazzino che stava per fare il bar mitzvah, quella primavera del 67, con tutto il mio cuore stavo dalla parte di Israele e trepidavo pensando alla concreta possibilità che venisse distrutto, che i miei parenti venissero buttati a mare, come le radio arabe in lingua ebraica da settimane ripetevano minacciosamente. Ho esultato per quella vittoria considerandola straordinaria e miracolosa. Seguivo i telegiornali di Arrigo Levi studiando i suoi sguardi nella speranza che fossero incoraggianti e vivevo Israele come certamente il progresso, la modernità, ma anche la giustizia sociale. Umberto Terracini fu il primo alla Camera dei Deputati a chiedere nel 1948 che il governo italiano riconoscesse lo Stato di Israele, indicandolo anche come un esempio attraverso i kibbutz di socialismo realizzato e di democrazia reale. Certo, poi i nostri sentimenti non si sono modificati. Il mio amore per Israele oggi non è diminuito, ma è assai più tormentato, è pieno di contraddizioni, è pieno di grandi delusioni. Tra le altre, che non ho il tempo qui perché la mia è solo una presentazione di Giorgio Gommel e non un intervento. Insieme a Luigi abbiamo scritto l'introduzione a questo libro, quindi quello che avevamo da dire l'abbiamo già scritto. Ma tra le altre, una delle più acute delusioni è appunto la demonizzazione che un'ossessione identitaria che è cresciuta e che si è estesa insieme al sionismo religioso, a una visione messianica apocalittica dentro al mondo ebraico, si è scaraventata addosso ad alcune figure tormentate, sulla solitudine degli ebrei di sinistra. Giorgio Gommel, che scherzosamente prima, dialogando con lui, presentavo come il protagonista di questo libro, dopo alcuni grandi vecchi che sono il già citato Umberto Teraccini e un'altra figura meno nota ma straordinaria che meriterebbe di essere conosciuta di più, Leo Levi, arrestato nel 1934 tra i primi antifascisti di giustizia e libertà, insieme a Carlo Rosselli, insieme a Vittorio Foa e ad altri. Dopo, la persona probabilmente più citata in questo libro è Giorgio, per il suo impegno, per la pace, per il dialogo che inizia appunto da quegli anni fatidici. Ebbene, anziché esserne orgogliosi e rispettare eventualmente anche nel dissenso questa diversità preziosa, oggi Giorgio è una persona che nella sua città a Roma viene schermito, isolato e spesso minacciato all'interno della comunità ebraica. Io sono felice che questo non accada nella nostra città di Milano, mi sembra un segno importante di civiltà, ma diciamo che credo che lui possa avere dato una lettura, vedo Stefano che dice che anche a Milano si possono... un po' meno, un po' meno, ecco, siamo benevoli, ma insomma credo che lui ci possa dare una lettura molto interessante del lavoro di Roberto Delera, anche se non lo ha conosciuto personalmente. Grazie molto, ringrazio molto Gad e Betti che mi ha invitato. Io appunto non ho conosciuto Roberto e quindi non ho, diciamo, questa dimensione biografica e interpersonale, quindi farò un pochino un discorso, non una lezione, ecco, ex cathedra, ma insomma, dopo le parole molto gratificanti di Ganso, ma devo dire qualcosa di sostanza ovviamente. Penso, appunto non ho incontrato Roberto, però dalla lettura del libro, buona parte del libro che ho letto, ho trovato effettivamente un senso di grande vicinanza intellettuale, di empatia e presumo che se lo avessi incontrato appunto ci saremmo abbracciati, avremmo scambiato delle opinioni molto convergenti. La cosa, diciamo, il piccolo aneddoto personale, poi dirò qualcosa di più, tra virgolette, insomma, intellettuale e politico, il piccolo aneddoto personale è che in effetti in alcune delle pagine, in particolare, lui ricorda, ricordo un mio articolo su Atikva, che era il giornale dei giovani ebrei italiani, della Federazione Giovanile Ebraica Italiana, ed è del 70, io avevo compiuto grossomodo 21 anni, ma adesso il fatto personale e biografico mio è irrilevante, la cosa, invece, molto rilevante rispetto a Israele, all'ebreismo di sinistra, è che in quell'articolo, dicevo, di un congresso dell'Unione Mondiale degli Studenti Ebrei, che aveva avuto luogo ad Arad, che è una piccola città nel Neger, insomma, dove ha vissuto Amosot per le sue intolleranze allergiche, eccetera, eccetera, per cui fuggiva dalla grande città ed è andato a vivere, esattamente, ad Arad. Questo congresso fu nell'estate del 1970, e perché fu molto importante? Perché ci fu questo dibattito lacerante nell'Unione Mondiale degli Studenti Ebrei, fu la prima volta che il documento conclusivo diceva del diritto all'autodeterminazione dei palestinesi, non parlava di Stato di Palestina, ma parlava di principio, diciamo, come dire, intoccabile, insomma, di un diritto all'autodeterminazione dei palestinesi, che era, come dire, l'interfaccia, insomma, lo specchio del diritto alla determinazione degli ebrei che erano riusciti ad autodeterminarsi, appunto, in Israele. Ci fu una, fu ovviamente molto controversa questa cosa, ci fu, diciamo, una vittoria maggioritaria di alcuni, che erano essenzialmente gli europei, italiani, francesi, i latinoamericani, gli americani erano molto divisi, alcuni votarono a favore, alcuni votarono contro, contrari erano gli israeliani, gli inglesi, gli australiani, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, fu un dibattito molto, molto, molto appassionato, molto difficile, e, come dire, vincemmo, tra virgolette, a maggioranza. Dico ancora un piccolo lato, come dire, personale, da aneddoto, che noi eravamo sei o sette italiani, delegati della Federazione Giovanile Ebraica. Bene, ne dico solo, ne nomino solo due, perché, insomma, è anche significativo. Uno era Riccardo Disegni, attuale rabbino capo di Roma, un altro era Dario Disegni, presidente della Comunità Ebraica di Torino, nonché presidente del MEIS, del Museo Ferrarese. Un altro era Riccardo Calimani, il veneziano, lo scrittore, poi io e poi altri due o tre che ora non ricordo. No, dico, è buffo, perché, come dire, parliamo di persone che poi hanno fatto, diciamo, che hanno avuto una storia ebraica istituzionale, insomma, in anni neanche troppo recenti e oggi, e la cui formazione, la cui educazione sentimentale, intellettuale, era però in quella temperie. Mi è piaciuto molto il libro di Roberto, devo dire, ci sono stati altri libri in questi anni su questo stesso tema, quello curato da Yanichi Cingoli, non so se Yanichi è qua, no, sulla sinistra e la questione ebraica, in cui ci sono, per esempio, dei saggi di Amos Ruzzatto, di Stefano Levi della Torre, di Guido Fubini, eccetera, eccetera. In Appendice c'è un bellissimo discorso di Napolitano, Giorgio Napolitano, che andò all'Università di Tel Aviv, mi pare, a metà degli anni 70, credo sia, 77, 78, e c'è questo suo discorso. C'è stato un altro libro di un giovane ricercatore dell'Università di Palermo, Matteo Di Figlia, Israele e la sinistra, che è uscito nel 2012, e qui ci sono interviste a Giorgina Ariane Levi, che ricordava qualcuno prima, ad Enrico Levi, a Anna Fo, a Stefano Jesurum, a Clara Sereni, eccetera, eccetera. E poi c'è, vabbè, c'è un libro di Amos Ruzzatto, molto noto, che è Conte racconta a memoria di un ebreo di sinistra, ne nomino soltanto alcuni, e infine un libro di Marzano e di Guri Schwarz, che è imperniato essenzialmente sull'82, per la guerra del Libano, l'attentato alla sinagoga di Roma, eccetera. Ora, quindi lui... Meraviglioso. Quindi, come dire, c'è un bel po' di bibliografia su questo tema, anche sul caso piccolo, in fondo, abbastanza piccolo rispetto al macrocosmo del nostro universo, che è quello degli ebrei di sinistra in Italia. Rispetto alle cose che diceva prima Goffredo Fofi sul libro di Traverso, in effetti ha ragione, ha ragione Fofi. C'è un po' una dicotomia, insomma, fra l'ebreo del Novecento, come dire, e quello di oggi. Traverso forse forza un pochino la cosa, però fondamentalmente ha ragione. È stata Hannah Arendt, insomma, a porre questa questione, perché lei, Hannah Arendt, disse che la condizione tipica degli ebrei dell'Europa occidentale dopo l'emancipazione è quella del paria. L'ebreo paria, il paria consapevole. Cosa dice Arendt? Dice che il paria consapevole, i paria consapevoli sono quegli spiriti coraggiosi che hanno tentato di fare dell'emancipazione ciò che in effetti avrebbe dovuto essere la missione degli ebrei in quanto ebrei nei ranghi dell'umanità, piuttosto che il permesso di scimmiotari gentili o un'occasione per assumere il ruolo del parveni. E tra le grandi figure di ebreo paria che Glaren ci ricorda sono notissimi, Heinrich Hein, Bernard Lazar, Franz Kafka, Walter Benjamin, cioè l'ebreo che, diciamo, insorge contro la propria marginalità, l'oppressione, combatte per sovvertire l'ordine sociale e culturale del tempo, alleandosi con altri oppressi. Questa figura dell'ebreo paria effettivamente ha dominato la cultura ebraica e dell'Occidente nel Novecento. E ha ragione traverso. C'è oggi una rottura, diciamo, molto forte con quel paradigma. Gli ebrei della diaspora, la diaspora ormai è un fenomeno soltanto occidentale, europeo e americano. Gli ebrei della diaspora in larga parte, per nostra fortuna, per certi versi, cioè gli ebrei dell'Occidente fanno parte socialmente dei cedi o medio-alti della società e appartengono in un certo senso al mondo dei vincitori. Questa è un'espressione che ha usato Stefano Levi dell'Atori in suo articolo. È una condizione forse transitoia questa, non dico che sarà con noi per l'eternità. Forse precarie, forse reversibili, ma oggi è indubitabile. Gli ebrei della diaspora, siano essi osservanti o non, fedele alla tradizione ebraica o meno, però insomma, in generale, sono istruiti, sono inseriti nel processo di globalizzazione solo per usare un'impressione un po' vetusta che ha usato Goffredo Fofi e appartengono essenzialmente agli strati borghilesi della società e quindi tendono in larga parte a conformarsi a interessi, valori, modelli di comportamento conservatori. Si è perduta la carica iconoclasta dell'ebreo campione della rivoluzione politica e culturale del Novecento. Non è tanto vero questo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un caso effettivamente molto complesso perché gli ebrei e gli Stati Uniti, malgrado questa posizione solo economica, sono fondamentalmente libera, votano al 70% per il Partito Democratico, hanno votato per il 70% nei sondaggi d'opinione exit post e nelle inchieste anche demoscopiche più profonde dopo l'elezione. Il caso di Obama fu il 72, nel caso del Clinton il 70. Quindi c'è una persistenza di voto democratico e di partecipazione degli ebrei anche alla militanza in favore delle condizioni difficili degli afroamericani anche per esempio il caso eclatante di molte organizzioni ebraiche che hanno militato negli ultimi due mesi molto fortemente, molto apertamente contro il travel ban di Trump eccetera eccetera. Il caso di Israele diciamo è più complesso, ovviamente è anche contraddittorio secondo me perché Israele è Oriente e Occidente, da un lato è un paese forte della sua, come dire, supremazia militare straripante della protezione offerta dall'America ma è anche debole per il senso angoscioso di insicurezza fisica e psicologica che il perdurare della guerra e la violenza terroristica incutono nel paese. È una nazione che dispone di un'enorme potenza bellica ma con questo sottofondo di fragilità e di solitudine. Una nazione di rifugiati, di immigrati, figli di una storia di persecuzioni e di esilio il cui diritto all'esistenza è stato per anni rigettato dal mondo arabo e tuttora la cui esistenza come stato che sia pienamente accettato e pacificamente integrato in un Medio Oriente normale è ancora in forse. Questa condizione diciamo di vincitori, che è comuna a Israele, gli ebrei della diaspora che, ripeto, è precaria ma oggi prevalente, io credo che ponga almeno un interrogativo e cioè come si fa a risolvere questa antinomia fra una condizione oggettiva di essere dalla parte dei vincitori, uso questo termine che è un po' una forzatura però insomma lo capite, e invece la nostra esperienza soggettiva di ebrei e autorepresentazione di noi stessi come vittime, e quindi come vinti e come vittime e quindi fra un impulso a stare a destra per ragioni di classe, chiamiamo così come dire, della nostra condizione oggettiva socio-economica e invece un retaggio etico, ideale, emotivo che è di sinistra se queste categorie semplificatrici sono ancora lecite. Io penso, come altri, che noi ebrei dobbiamo usare tutta la forza di cui disponiamo che è politica, anche militare, che è culturale, che è educativa contro gli antisemiti, contro coloro che disconoscono il diritto ad esistere come degli ebrei, come popolo, come comunità e come individui. Lo diceva Anne Arendt, cioè Anne Arendt diceva all'antisemitismo noi ci dobbiamo opporre come ebrei consci di tutto il carico identitario che è racchiuso in questa appartenenza e dopo la Shoah e con il diritto di Israele ad esistere tuttora in forze un'enfasi anche particolaristica sui nostri interessi come dicono gli Stati Uniti, what is good for the Jews mi sembra più che giustificata, ma questo ha dei limiti cioè ci dobbiamo porre rispetto a questa enfasi sul particolarismo ci dobbiamo porre dei limiti c'è questa dialettica ovviamente molto delicata nella nostra condizione particolare nell'esperienza ebraica fra particolarismo e universalismo e penso che sia vano penso che sia vano, ho sempre pensato, devo dire e lo penso tuttora che sia vano e autodistruttivo per il futuro degli ebrei ricercare la protezione di alleati impropri provvisori, opportunistici come è stato soprattutto negli anni 2000 sotto l'influenza dei neoconservati negli Stati Uniti di alcuni imitatori nostrani ebrei e non ebrei in nome della difesa critica di Israele e della comune ostilità all'Islam forse è più efficace, dico forse, forse perché non voglio essere troppo categorico qua forse se uno guarda, se uno pensa al futuro degli ebrei anche in Europa è più efficace per difendere noi stessi e il nostro futuro richiamarci ai valori universalistici dell'ebreismo, della dignità dello straniero della difesa dei diritti dei più deboli perché uno degli insegnamenti che dobbiamo trarre dalla Shoah così come dalla lunga storia insomma degli ebrei vi è la coscienza dell'interesse oggettivo degli ebrei di lottare contro forme di discriminazione quando anche non colpiscono direttamente ed immediatamente gli ebrei e vivere in società multiculturali in cui le identità siano rispettate soprattutto se sono delle identità di minoranza legittimate a convivere e viste come un beneficio per tutti la storia del popolo ebraico è una riprova concreta di questo perché molte volte forme di razzismo di esclusione sociale o di discriminazione religiosa siano poi riflesse in odio anti-ebraico questo tema diciamo della solitudine degli ebrei di sinistra ho trovato il titolo effettivamente molto molto efficace è una solitudine che forse è più acuta persino oggi rispetto al periodo che Roberto tratteggia fino agli anni a metà degli anni 90 all'assassinio di Rabi c'è forse una dicotomia crescente fra di noi tra diciamo il nostro essere ebrei vicini e solidari con Israele e questi valori chiamiamo progressisti di sinistra e cioè da un lato nell'essere vicino a Israele il suo diritto di esistere dall'altro del riconoscere che dopo 50 anni appunto questa occupazione dei territori è distruttiva per Israele stessa non soltanto per i palestinesi ma è autodistruttiva per Israele è un pericolo forte per la democrazia del paese la coesistenza tra ebrei ed arabi e fra l'altro quest'anno come alcuni hanno ricordato è un anno molto importante perché ricorrono due anniversari ricorrono i 70 anni della risoluzione delle Nazioni Unite il 29 novembre 1947 fu la risoluzione delle Nazioni Unite che decise il piano di spartizione della Palestina in uno stato ebraico in uno stato arabo quindi divise quella piccola terra contesa la Palestina a Erez Israel in due stati il primo Israele esiste dal 48 pur senza confini sicuri e riconosciuti e nell'ostinata opposizione di parte del mondo arabo islamico il secondo ancora non c'è come stato sovrano e in più in giugno il 5 e 10 giugno sono ricorrono i 50 anni della guerra dei sei giorni che Israele combatte contro gli stati arbi coalizzati come ricordava Gadi in un'aggressione che poteva essere esiziale per le sorti del paese però iniziò dall'undicesimo giorno scusate dall'11 giugno dal settimo giorno iniziò questo regime militare di occupazione che tuttora che tuttora permane il Sinai come sapete fu restituito all'Egitto dopo gli accordi del 79 da Gaza Israele si è ritirato unitariamente nel 2005 ma in West Bank la Cigiordania è tuttora in larga parte il 60% della Cigiordania è tuttora sotto il controllo militare di Israele se non si giunge ad un accordo sui confini sugli insediamenti sullo stato di Gerusalemme la stessa nozione di due stati per due popoli che Roberto ricorda che ci ha animato negli anni 80 e 90 fino agli accordi di Oslo del 93 rischia di evaporare nel mondo onirico del mito e nel frangente attuale ironicamente e tristemente forse il conflitto israelo-palestinese è un po' relegato in secondo ordine perché c'è un cataclismo umanitario nella regione la Siria il terrorismo islamista eccetera quindi la nostra attenzione anche a quel conflitto in Europa per esempio in un'Europa che fra l'altro è attraversata dalle sue crisi di disunione eccetera è molto minore nell'opinione pubblica nei policy makers eccetera è molto minore rispetto agli anni 90 e 2000 e quindi diciamo è difficile in un certo senso per gli ebrei tra virgolette di sinistra affermare invece il primato e l'importanza del conflitto e del fatto che se non non si giunge ad una risoluzione basata sull'idea di due stati per due poveri che alcuni giudani sono irrealistica anacronistica vetusta arcaica ma che è l'unica che consente a come dire a Israele di restare uno stato democratico degli ebrei con diritti paritari per i cittadini non ebrei che vivono che vivono nello stato voglio solo dire ancora due cose per informazione per le persone che sono qui e non dilungarmi troppo magari ci saranno delle domande un dibattito eccetera che c'è una campagna che da alcuni è nota anzi alcuni degli astanti Stefano Jesrum e altri amici milanesi e GAD eccetera si sono anche impegnati in questo c'è una campagna che è una campagna di minoranza certamente di israeliani io poi ho qui anche un po' di materiali il cui nome è SISO è una sigla che vuol dire Save Israel Stop the Occupation è una campagna che è nata sulla base di un appello di 500 israeliani una minoranza ovviamente del paese ma nomi molto noti ovviamente ci sono alcuni intellettuali come Ots Grossman ci sono degli artisti come Amos Gitae la cantante noi ci sono degli ex generali c'è Daniel Kahneman anche uno psicologo premio Nobel per l'economia cioè ci sono moltissimi premi israele tra i firmatari ci sono alcuni ministri diversi ex ministri ex deputati insomma sono 500 israeliani che hanno fatto un appello agli ebrei del mondo sotto questo nome SISO perché anche gli ebrei della diaspora siano sostengono in un'azione coesa e comune questa battaglia per la fine dell'occupazione e ci sono stati diversi eventi nel corso di questi mesi al di là dell'appello iniziale che ha dato vita diciamo a questa campagna noi abbiamo questa associazione di ebrei europei che si chiama J.Col negli Stati Uniti c'è un'associazione molto grossa più grossa della nostra che si chiama J.Street abbiamo appoggiato questa campagna adesso faremo dal 2 di giugno al 12 di giugno un viaggio in Israele Palestina siamo circa 55 ebrei europei poi ci sono moltissimi americani parteciperemo a delle manifestazioni c'è una miriade di incontri con N.G visite incontri con deputati alla Knesset andremo a Ramallah a Bethlehem incontri con l'autorità nazionale palestinese con le N.G israelo palestinesi che lavorano insieme eccetera eccetera non voglio indurgarmi su questo e poi parteciperemo ad una è la nostra piccolezza numerica però parteciperemo anche fisicamente ad alcune manifestazioni che avranno luogo in questi in questi giorni in Israele con ciò ecco una piccola informazione in più che volevo dare per dire che la solitudine c'è ma anche la tenaccia anche la tenaccia grazie Giorgio Albonetti dove è andato Giorgio Albonetti ecco non parlare con la bocca piena eh quello mi ha insegnato la mia mamma buonasera a tutti la prima volta che ho conosciuto Michele eh no Michele Roberto adesso ovviamente Michele perché oh iniziamo bene perché Michele ha un bel discorso e deve farlo e quindi per questo mi viene in mente quindi dopo di me tocca a te eh si dice che io avevo i pantaloni corti eh credo che avessi tredici anni quattordici anni non ricordo e stavo al gabbiotto del giornale Roberto con Nini e Marco che adesso non vedo arrivavano tutti belli con il loro impermeabile bianco la mattina presto da Milano io avevo fatto la notte qualche volta con mio fratello qualche volta a sole in mezzo a due cani mastini tremendi un disastro esatto l'ho conosciuto lì poi dopo ci siamo persi ci siamo ritrovati eh io ero giovanissimo ero molto piccolo ovviamente eh ci siamo rivisti a Milano quando io sono venuto nell'83 a Milano e da lì ci siamo frequentati intensamente e la cosa che mi ha sempre colpito è questa sua voglia di stare vicino di conoscere il mondo ebraico di frequentarlo mi ricordo quando mi invitò alla festa della maggiorità ebraica una parola difficilissima che adesso io non sono in grado di dire ripeti con me Bar Mitzvah è così difficile ci ho provato prima ma lo sono segnato e ho lasciato perdere e poi il viaggio con Roberto in Israele arrivamo il venerdì sera di corsa al muro del pianto e lui mi dice andiamo a vedere i pinguini e io dico ma chi sono i pinguini e questa voglia di farmi vedere di farmi conoscere il mondo ebraico Israele mi ha sempre appassionato l'ho sempre seguito mi raccontava dei suoi viaggi per Pasqua per la Pasqua ebraica in giro per l'Europa con Gad e gli altri e questo suo essere quasi militante pur non essendo assolutamente ebreo ma che non Betti Michele non perdessero questa memoria era affascinante e mi ha sempre colpito questo volevo ricordare stasera anche perché poi in questi ultimi anni del mio lavoro sono finito in Polonia ho conosciuto tutti i disastri fatti in Polonia contro gli ebrei mi sono appassionato come tutti sanno non sono un grande lettore ma sto nonostante il mestiere che faccio mi sono appassionato alla persecuzione degli ebrei sto leggendo una triade di un amico di Selling era un bellissimo libro che se lo leggessero tutti però sono quasi sono tre volumi novecento pagine non poca roba e racconta esattamente lo serminio degli ebrei in Polonia in particolare in modo miticoloso del ghetto di Bocnia e di tutto quello che è successo di loro che riescono a fuggire in Ungheria insomma è impressionante quello che è successo e il fatto che io lo faccio adesso lo faccio in questi giorni e proprio oggi mentre tornavo da Barcellona continuavo a leggere questo libro e pensavo di venire qui e di parlare di Roberto mi colpiva anche perché io sono poco religioso in assoluto e tutti i discorsi fatti stasera molto complicati per me perché sì un po' mi appassionano ma un po' mi annoio mentre invece Roberto si appassionava molto a tutto ciò è la cosa che più gli piaceva perché gli piaceva discutere con Gad Luigi con Goffredo e con Adriano di tutto questo grazie grazie Giorgio ci tengo a Dio però che nei confronti di noi altri ebrei Roberto sfotteva anche parecchio nel mio caso in specifico mi ha sempre e soltanto chiamato Port Noi che equivale a dirmi Segaiolo e qua ci fermiamo come c'è ragione e tu cosa ne sei beh se lo sa Betti parlava poco ma parlava dunque io non voglio ovviamente forzare alcuno e quindi noi possiamo aspettare 30 secondi siamo davvero contenti che lo faccia però bisogna anche rispettare la ritrosia e la reticenza va bene Betti va bene no non forziamo va bene allora a nome in particolare di Betti di Michele e di Rosa intanto facciamo qualche ringraziamento come dire doveroso alla Casa della Cultura che ha così gentilmente ospitato questa nostra serata e a Ferruccio Capelli che credo da oltre 30 anni tiene viva e vitale questa istituzione così importante per Milano e per non solo Milano ringrazio anche Gadi Luzzatto Voghera direttore del CEDEC che è istituzione a cui vogliamo bene anche perché e non è ragione da poco vi lavora assiduamente la nostra Betti poi ovviamente ringrazio tutti voi e tutti noi perché penso che magari un po' goffamente un po' faticosamente abbiamo fatto quello per cui avevamo deciso di riunirci qui cioè chiedo scusa se il termine vi sembra troppo infatico onorare la memoria il ricordo e con un termine che ai presenti dice molto anche se può sembrare singolare quella che io ho sempre chiamato l'eleganza di Roberto grazie a tutti e un caro abbraccio a noi rinnovo l'invito a chi voglia per una volta i libri non si rubano ma si ricevono proprio volevo solo dire di là c'è ancora qualche bottiglia sì 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 bravissimo grazie due anni fa precisamente esattamente ciao bellezza noi ci vediamo questo il tre no il tre mi dovrete spiegare io ho detto di sì a scatola chiusa ciao 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 eccolo qua chi è ti ho visto ieri sera interista come è cerchi un interista interista ti ho visto l'hai vista beh ti ho visto l'interista non so 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 mi ammiro moltissimo ho perso per la risposta quella sì veramente non so bene ci abbiamo no come no troppo ne ho così Grazie.